Al Salone Nautico di Genova presentiamo la nostra prima linea 340 Regina, è uno yacht che nasce dalla volontà di chi è sempre stato attivo nel service per la nautica di creare la propria linea di imbarcazioni e lanciarla sul mercato. Al Salone di Genova presentiamo la versione Entro Fuori Bordo che monta due motori Volvo Penta V8 da 300 cavalli l'uno. Caratteristiche estetiche come potete vedere presenta un'ampia zona a poppa, relax, trasformabile anche in un ampio prendisole, lo stesso si può vedere a prua con un ampio cuscino di prendisole. Gli interni presentano una cabina e una dinette trasformabili in due cabine su scelta del cliente perché appunto un nostro punto di forza è la customizzazione e l'attenzione verso il cliente, cerchiamo quindi di esaudire tutte le sue richieste sia in termini di configurazioni, layout e personalizzazione dei dettagli. Ci rivolgiamo a una fascia di mercato medio alta, essendo un'azienda comunque alle prime armi, anche se comunque vantiamo anni di esperienza nel service, cerchiamo di inserirci nel mercato mantenendo un'alta qualità, un'attenzione per le finiture, una grande cura dei dettagli, cercando comunque di mantenere un prezzo competitivo che ci permetta di inserirci in un mercato già con grandi nomi, grandi brand e ci permetta di crescere in un futuro speriamo molto prospero. È la prima volta che esponiamo al Salone di Genova e speriamo che rispecchi tutte le aspettative che abbiamo riposto nel Salone e ci porti tanta fortuna.